Il Ministero dell'Ambiente perde ancora e il progetto di bonifica può andare avanti. Roma aveva annullato la gara d'appalto, già vinta dalla ditta belga Dekdeme, per la bonifica delle aree inquinate di Bussi sul Tirino. Lo scorso 3 dicembre il Tarra aveva giudicato illegittimo l'annullamento e il Ministero era ricorso in Consiglio di Stato. Quest'ultimo ha rigettato ieri la richiesta sospensiva proposta dal Ministero, fissando l'udienza in merito al 13 maggio prossimo e ha respinto alla pretesa di Roma di sospendere l'efficacia della sentenza del Tar. Quindi la Dekdeme, secondo la legge, ha ancora diritto a integrare un progetto di bonifica, mentre l'Edison deve provvedere alla messa in sicurezza. Su questo il colosso energetico è in ritardo. Finora ha allestito il capping e il rivestimento geotessile su meno del 10% delle discariche. Il Ministero rinuncia ad andare in tribunale e riunisce il tavolo delle istituzioni, fanno sapere dalla Giunta regionale. Nel frattempo le sostanze cancerogene, tossiche e lisseppellite continuano a contaminare l'ambiente. I rapporti dell'arta sono inquietanti. Piombo, mercurio, cloruro di vinile, chi più ne ha più ne metta, continuano a inquinare il terreno, la falda acquifera e l'area di bussi. La bonifica è attesa dal 2007, anno in cui furono scoperte le discariche 2A e 2B. La strada però è ancora lunga e percorre le sedi giudiziarie. Oltre al procedimento del Ministero riguardo la gara d'appalto, con la decdeme che per l'annullamento aveva richiesto risarcimento i milionari, è attesa anche la sentenza della Cassazione riguardo Edison, che da provincia di Pescara, Tarre e Consiglio di Stato è ritenuta la responsabile dell'inquinamento.